Ormai siamo allo stremo, barbaglie ateo e mangia preti, ma a quel punto s'appella pure la madonna del manganello, santa cattofacista e concordato di doppio culto e duplice morale. Perché no? Laici ma non laicisti cacchio, laici ma non laicisti. Come sappare quindi si patteggia in cambio di un po' da duo un nuovo concordato anche per Marte. Si stabilisce le chiese dappertutto. 8 per mille, anche il 10, è tutto a nero. Omosessualità tollerata solo in seminario e in presenza di un adulto. E infine ricerca vietata sugli embrioni, a meno che non se la possano pagare da soli. A noi!